Sono Alfio Ghezzi, chef di cucina di Locanda Margon, un piccolo ristorante sulla collina di Trento immerso nei vigneti di cantine Ferrari. Se c'è un segreto in cucina penso sia quello di avere un approccio semplice con la materia prima e cercare di valorizzarlo al meglio delle sue caratteristiche organolettiche. Lo spaghetto al pomodoro è un grande classico della cucina italiana. L'ho preparato mantenendo un approccio semplice con il prodotto. Ho scelto quattro tipologie diverse di pomodori. Dal fiascone ho estratto un'acqua e ho fatto una salsa di pomodoro bianca. Con il pizzuttello ho fatto una polvere di pomodori che poi cospargerò sugli spaghetti. Col cuore di bue ho estratto anche in questo caso l'acqua e l'ho condita con un'acqua di parmigiano e un po' di basilico e invece con il cirietto l'ho liofilizzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.